Benvenuti su Medicina Informazione Web TV. In tutto il mondo occidentale la prevalenza di scompenso cardiaco è in aumento. Alla base di questo fenomeno vi è probabilmente sia l'incremento della durata media della vita, sia l'aumentata sopravvivenza dopo un evento coronarico acuto. Lo scompenso cardiaco o insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa che necessita di una collaborazione fra specialisti. Nella cura dello scompenso si sono affacciati ultimamente dei trattamenti molto promettenti e una visione multimodale che tenga conto di concetti innovativi come la cardionutrizione o il monitoraggio a distanza. Ne parliamo con la professoressa Aspromonte che è collegata con noi, che saluto, ringrazio e a cui chiedo per iniziare un identikit dello scompenso. Mi occupo da molti anni di scompenso cardiaco anche detta insufficienza cardiaca e nel corso degli anni ho maturato una definizione via via differente di questa patologia. È una patologia molto complessa e oggi si tende a parlare di traiettoria di patologia perché si passa dalla cardiopatia strutturale, dello sviluppo di cardiopatia, alla sindrome clinica. Quindi quando noi definiamo problemi legati all'insufficienza cardiaco o scompensa cardiaca e dir si voglia, noi immaginiamo profili di pazienti che nella maggioranza dei casi dove li troviamo? Li troviamo in ospedale, in pronto soccorso, con una malattia aperta viene detta, tradotta dall'inglese overt, che significa che la cardiopatia per molto tempo era stata sottostante, c'erano stati una serie per esempio, un vecchio infarto, una patologia valvolare, una disfunzione ventricolare sinistra del cuore in conseguenza di una chemioterapia. Tutto questo può portare allo sviluppo di scompenso cardiaco clinico. Qual è il paziente tipo? Quali sintomi più comuni? Il primo sintomo è prevalente l'affanno, non si riescono più a fare le stesse cose di primo, oppure un gonfiore che può essere un gonfiore alle caviglie o tutte e due insieme. La maggioranza dei pazienti ha un'età avanzata, quindi si supera addirittura gli 80 anni, la maggioranza si trova spesso nei reparti di medicina, ma non è infrequente trovare pazienti giovani in conseguenza di una virosi, per esempio, si ritrovano con una disfunzione ventricolare, una patologia miocarditica o una patologia valvolare. In questo caso c'entra molto il fattore che ha innescato il problema o anche una familiarità per patologia. L'innovazione terapeutica negli ultimi anni sta cambiando radicalmente l'approccio al paziente con scompenso, con l'obiettivo di evitare ricadute e progressione della malattia. Qual è lo scenario? Negli ultimi 40 anni abbiamo fatto grandissimi passi avanti, sia dal punto di vista della terapia che dal punto di vista dei device. Soprattutto per i pazienti in cui abbiamo una riduzione della frazione diiezione, cioè della funzione di pompa del cuore, abbiamo trovato molte, molte strategie. 40 anni, come dicevamo, di farmaci e siamo passati da un concetto di alterazione cosiddetta neuroormonale, cioè in base, praticamente, sostenere il circolo e invertire dei processi di compenso che alla lunga sono dannosi per il cuore e si è arrivati a un'innovazione farmacologica molto interessante perché l'accorpamento di questa visione neuroormonale farmacologica insieme all'alterazione, alla nuova innovazione sul fattore metabolico ha portato a un cambiamento epocale perché l'insieme di queste terapie porta a un prolungamento, soprattutto della vita, a una riduzione delle ospedalizzazioni. Quindi per un paziente di questo profilo noi possiamo non solo stabilizzare le condizioni, la capacità funzionale e la riduzione, ma anche allungare la vita. Pensate a un paziente di 60 anni con una diagnosi di questo tipo che con farmaci ben somministrati, praticamente, può recuperare la frazione dell'iniezione e recuperare una classe di vita normale. Se poi immaginiamo tutto quello che è possibile fare anche per gli anziani, perché il problema è non solo prolungare la vita, ma per un paziente 80enne è molto importante la qualità della vita, mi sono trovata spesso nella condizione di pazienti anche oltre ottantenni di fronte alla informazione, guardi che questo farmaco la farà vivere di più, mi hanno detto guardi sì io voglio vivere non di più ma meglio, voglio avere una qualità di vita accettabile che mi consenta di fare la mia vita attuale, di stare con il mio nipotino, di non affaticarmi per ogni cosa che faccio. Quindi per me è importante questo aspetto. È chiaro che la comunicazione col paziente e la comunicazione dell'innovazione farmacologica è il futuro. Sono stati fatti degli studi proprio importanti per implementare tutte le classi di farmaci. L'abilità qual è? È quella di mettere insieme gli effetti come un puzzle nella terapia, evitando effetti collaterali, perché noi immaginiamo che non si tratta solo di una malattia cardiaca, ma di una malattia che interessa anche gli altri organi, per esempio il rene, per esempio il fegato, per esempio il polmone, è la fase finale di molte patologie associate. Mai come in questa patologia si sposa bene il concetto di epigenetica, cioè quello che succederà oltre la mia genetica. Sempre più lo scompenso va inserito in un contesto più ampio in cui problematiche come diabete o insufficienza renale formano un quadro unico. I nuovi farmaci che risposte danno in questo quadro. Per capire meglio come siamo andati avanti in innovazione farmacologica, pensate che i nuovi farmaci, ovvero le glifozine, erano nati in uno studio per diabetici e si sono rivelati utili per l'insufficienza cardiaca. E la cosa interessante è che l'effetto metabolico combinato con l'effetto neuroormonale ha portato a un tale cambiamento in tutte le classi di scompenso cardiaco, dalla funzione sistolica ridotta al mid-range alla funzione sistolica preservata. Quindi stiamo di fronte a una rivoluzione copernicana in cui paradossalmente quello che ha funzionato rispetto a una visione assolutamente numerica, vogliamo dire, del numero della frazione dell'elezione, eccetera, ci troviamo di fronte alla scoperta di un nuovo meccanismo che compensa assolutamente l'evoluzione e la traiettoria della progressione di malattia. La gestione dello scompenso prevede oggi anche l'attenzione a fattori un tempo poco considerati, come la nutrizione, si parla infatti di cardionutrizione, il microbiota, il benessere psicofisico per una migliore ripresa e un recupero funzionale. In cosa si traducono questi concetti? Allora, sentendo quello che abbiamo detto e ragionando su quello che è successo, uno potrebbe dire, rispetto alla vecchia visione, ma è sempre stato così in fondo, la visione olistica dello scompenso cardiaco è stato sempre il mantra che ho sempre sentito da quando ho cominciato a occuparmi da questo e all'inizio non sapevo come gestire queste situazioni. In realtà, in maniera personalizzata, in maniera innovativa, si stanno studiando dei device importanti che agiscono stimolando, per esempio, la cellula elettrica, la cardiacontrattiva di modulation, che si sta comportando come un inotropo senza consumo d'ossigeno, immaginate, e su questo si ottiene anche un'ottimizzazione del circolo e anche della qualità della vita, per esempio, ma si sta andando verso altri sistemi, lo studio degli altri organi, degli altri sistemi. Per esempio, stiamo studiando in questo periodo molto bene la funzione del fegato, oltre alla funzione cardiorenale che è nota, ma l'intestino è il nostro futuro. Perché? Perché attraverso questo studio, perché adesso ce ne siamo occupati esclusivamente nei casi avanzati, nello scompenso avanzato abbiamo trovato l'uso di integratori, eccetera, ma lo studio si fa molto interessante, perché proprio nelle fasi avanzate l'evoluzione finale è collegata, per esempio, con infezioni sistemiche di germi che vengono dall'intestino. Voi mi direte, ma com'è possibile? È possibile perché l'effetto cronico porta a una alterata permeabilità, una scomparsa di specie microbiche all'interno dell'intestino e tutto questo comporta l'evoluzione finale. Quindi immaginate quanto è interessante uno studio fatto sotto questo profilo. Poi, nelle fasi più avanzate, per esempio, non c'è cultura, se non in certi settori, relativi per esempio alla riabilitazione e all'aspetto cachettico e all'atrofia muscolare, che è un problema importantissimo, che condiziona proprio la stabilizzazione del paziente. Quindi la cardionutrizione, secondo me, è il futuro. La tecnologia entra sempre più nella gestione delle malattie croniche. Telemedicina, teleconsulto sono ormai pilastri del follow-up. Quali i vantaggi per i pazienti? È evidente che in questa fase siamo in un processo di grande innovazione gestionale e tecnologica. Il Covid ce l'ha insegnato. Ormai questa fase la vediamo dappertutto. Durante il Covid ci siamo trovati che i centri scompenso hanno lavorato molto con la telemedicina, ma non solo, tutte le altre forme di cardiologia e comunque di medicina per raggiungere i pazienti. Allora, tutto questo però deve essere trasformato in innovazione digitale. Perché? Come la pensiamo? Immaginate l'opportunità di implementare la terapia con, adesso i farmaci praticamente si parla, c'è lo slogan dei quattro pilastri, cinque pilastri, con caratteristiche farmacologiche differenti. Allora immaginate un paziente che in questa maniera deve raggiungere il luogo di cura quante volte al mese? Per sei mesi o tre mesi, sei mesi, quello che dicono le linee guida. Perché quello che dobbiamo fare è implementare la terapia e inquadrare il paziente nel primo mese. Addirittura gli americani dicono see you in seven. Beh, per noi non è possibile seven. Cioè comunque sia in due settimane, un mese dopo un evento acuto il paziente deve essere rivisto, proprio per cercare di implementare nella stabilizzazione i farmaci. Possiamo fare una cosa del genere tutti in presenza, considerando che stiamo parlando di pazienti che hanno oltre 80 anni e hanno figli impegnati con la loro famiglia, con i lavori, quindi non è così flessibile il sistema. Quindi, oltretutto, il colloquio col teleconsulto con gli altri specialisti. Perché molto spesso è un discorso di integrazione di cure. Allora, quindi immaginiamo uno sviluppo di questo profilo in cui parte dell'assistenza viene erogata nella fase acuta, ma tutto il resto con paziente sempre fidelizzato, con famiglie fidelizzate, la telemedicina ci può aiutare molto ad avvicinare il paziente. Ma fatta come? Non semplicemente come televisita, come sta, eccetera, che è già di base importante, ma sviluppare dei progetti e dei programmi, quindi molto del tempo passato per scrivere, viene utilizzato per implementare terapie farmacologiche, integrare scambio di referti ed è questo che le strutture devono fare, a qualsiasi livello. Sia l'hub, che può assolutamente sfruttare la telemedicina per teleconsulto con gli altri specialisti e centri satelliti, sia tutti gli altri centri scompenso che possono assolutamente parlare col paziente che si sentirà guidato, agganciato e quindi questo produrrà sicuramente salute. Affrontiamo anche il tema della multidisciplinarietà e dei centri dedicati allo scompenso per una gestione ottimale che preveda la presenza del cardiologo, del geriatra, dell'internista, del nutrizionista appunto con l'introduzione di concetti nuovi come la gestione delle comorbidità, la valutazione funzionale o la fragilità così importanti nella popolazione con scompenso cardiaco spesso di età avanzata, come abbiamo detto. Esistono in quasi tutte le strutture ospedaliere dei centri scompenso dedicato perché è stata comunque una evoluzione gestionale. Perché il centro scompenso ha avuto successo? Ha avuto successo perché e perché funziona, perché mette insieme una serie di competenze. Come dicevamo prima, il paziente va incontro a progressione della sua patologia ma anche a stati clinici differenti. Infatti il percorso viene sempre detto quasi ondulato. Quando si vuole graficare il percorso del paziente si parla di un percorso cosiddetto ondulato, alti e bassi. Noi cerchiamo attraverso la nostra competenza, attraverso i farmaci, di stabilizzare il paziente nella curva alta. Ma quando poi il paziente progredisce nella sua patologia ha bisogno di una serie di competenze. Le differenti competenze vengono dal lavoro multidisciplinare. Per esempio un paziente può andare verso un'evoluzione cardiorenale, un paziente ha un problema endocrinologico o semplicemente un paziente ha un problema di device perché o ha un'aritemia o una presentazione differente o esce da un evento acuto. Oppure ha bisogno di un periodo di riabilitazione. Questa è la base del setting cosiddetto variabile di un centro multidisciplinare in cui nel tempo il paziente si fidelizza, il medico di riferimento della zona ha contatti con gli specialisti avanzati, ma soprattutto il futuro del paziente, il benessere del paziente, il paziente sente che ha degli specialisti a disposizione e che tutto questo lo porterà dall'inizio alla fine. Per esempio sì, anche la fine, perché un concetto avanzato è anche quello delle cure palliative. L'integrazione con le cure palliative quando la patologia è troppo avanzata, anche questo è uno sviluppo gestionale che ormai è cultura ed è avanzamento, è futuro. La collaborazione fra centri clinici e centri di ricerca ogni anno è oggetto del convegno Reimaging Heart Failure che lei organizza proprio per far sì che ci sia un confronto sulle novità scientifiche ma anche per pianificare future collaborazioni. Cosa è emerso nell'edizione che si è svolta recentemente al Policlinico Gemelli? Proprio come sintesi di tutto quello che ci siamo detti ogni anno organizzo un congresso molto innovativo sullo scompenso cardiaco perché qui vengono raccolte oltre diciamo l'innovazione di qualsiasi profilo raccolta nel corso dell'anno ma anche è una specie di community con tutti gli specialisti, con una parte dedicata ai pazienti. Questo è il futuro ed è questo il sistema di partecipazione in cui credo. Io ringrazio la professoressa Aspromonte per aver condiviso con noi gli ultimi avanzamenti nella gestione dello scompenso cardiaco. Ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina e Informazione UATV. Detà fines arzi moriti Non c'è nessuno della testa Grazie Ciao Grazie a tutti.